ok vediamo se parte tutto ragazzi come al solito ok connessione eccellente dovremmo essere live come al solito mentre la gente si connette aspetto un secondo e condivido tutto fatemi sapere ragazzi poi logicamente appena si connette qualcuno ciao lorenzo come va fammi sapere se si sente fammi sapere se vedi tutto e se e se tutto funziona facciamo un rapido check qua del cambio screen ok intanto come sempre andiamo a condividere il tutto sul gruppo su facebook e partiamo ragazzi grande lorenzo sempre presente com'è lorenzo si sente si sente si vede tutto bene si sente la musichina sotto in sottofondo che non so perché io nelle cuffie non la sento spero non sia troppo alta fatemi sapere se per caso c'è la musichetta di fondo e se si sente sente di volume diciamo va bene intanto qua condivido condividi copia link si sente bene ok perfetto non so perché io non sento la musica magari in obs è successo qualcosa no qua c'è il maratona del codice ma non è una maratona del codice ok questo piccolo piccolo errore coincidente di percorso quindi pubblichiamo sulla pagina pubblichiamo sul gruppo e partiamo è da un po che non ci si vede ragazzi abbiamo fatto la nuova serie ho lavorato veramente come un drago in sto periodo siamo partiti quest'anno siamo partiti molto molto forte tanti commerce tanto lavoro infatti sono un po sbattuto sono un po cotto spero non si veda magari si sente un po dal dal mio tono un po capo c'è capo no però diciamo che sono settimane veramente molto molto intense o vari progetti grossi che vanno online quindi quando si arriva in deadline è sempre diciamo c'è sempre un po di stress ed è sempre un po un po tosta perché comunque continui a lavorare su un progetto per tante ore devi andare a fixare fare tutti i bug fixing insomma richieste dell'ultimo minuto imprevisti dell'ultimo minuto poi più un progetto è grosso più è tosto diciamo da da gestire quindi quando ne hai due insieme che girano insomma metti non capita sempre però quando capita metti sempre un po alla prova la tua la tua pazienza soprattutto la tua forza nel senso che per tanti giorni devi programmare devi fare devi andare si sente la musichetta ok ciao good morning ciao fabrizio visto che mi è scritto una mail fabrizio non ho ancora avuto tempo di leggerla purtroppo perché sono come tu detto full su due progetti appena un attimo cerco di risponderti obs non fa sentire la musica in anteprima si è vero però se tu nelle impostazioni metti che vuoi monitoraggio di quello che esce io prima di solito la sentivo mentre invece è come se fosse saltato il monitoraggio non so perché alberto fiorillo ciao ciao quindi bene ragazzi ci siamo siamo già in un po siamo già in un po e possiamo ho condiviso tutto e possiamo partire un po con ufficialmente con la live di oggi nella live di oggi diciamo non è che era una live con chissà che obiettivi volevo semplicemente farvi vedere un po di cose fighe che ho trovato darvi un po di spunti confrontarmi con voi un po sui nuovi contenuti che adesso dovremmo fare e e fare due chiacchiere visto che comunque un mesetto che non faccio live ed è un po che non ci sentiamo in questo mesetto qua abbiamo fatto la serie wordpress codice smart è una serie penso che sia la serie più importante che ho fatto sul mio canale da quando sono su youtube quindi in cinque quattro anni cinque anni di youtube non so neanche mi ricordo neanche più è sicuramente la serie dove mi sono impegnato di più o comunque la serie dove ho dato più valore in termini di esperienza e in termini di che cosa di fondamentali di basi di partenza che bisogna avere per fare questo lavoro per essere degli sviluppatori dei creatori di siti web quindi è una serie molto molto importante mi sono impegnato tanto sono serie che veramente ci mettono tanto tanto tempo per essere prodotte ci sono c'è una lezione che è più di un'ora di video montato non in presa diretta quindi un video che in realtà è dura di più e che da editare è una bella una bella botta però sono super contento del risultato sono super contento delle dei feedback che ho avuto e voglio che diventi e secondo me lo è già però voglio che diventi anche in termini di visualizzazione il miglior la miglior serie su wordpress su youtube non solo in italiano mi piacerebbe farla anche in inglese perché sono sicuro che non c'è neanche in inglese un contenuto con così alto valore però per adesso lo facciamo in italiano che va bene così e quindi voglio che diventi il miglior video di wordpress su youtube la miglior serie di wordpress su youtube e il valore c'è sono convinto che con un po di tempo spero di arrivare a questo a questo obiettivo ok quindi piccola premessa su su wordpress codice smart quindi andato molto bene sono tutti super felici volevo poi praticamente aggiornarvi su cosa faremo dopo ovvero visto che ho detto durante tutta la serie che lo starter che abbiamo sviluppato nella serie nella serie lo andremo a sviluppare ulteriormente all'interno del corso pro se tutto va bene settimana prossima dovrei riuscire a pubblicare la prima lezione di questo nuovo modulo del corso pro che quindi è un aggiornamento gratuito per tutti quelli che hanno già comprato il corso per quelli che invece non l'hanno ancora comprato ragazzi c'è link in descrizione e dopo questo aggiornamento il prezzo aumenterà quindi vi consiglio di comprarlo praticamente all'interno di questa prima lezione andremo sicuramente ad aggiungere varie funzionalità che non delle quali non ho mai parlato neanche nei corsi pro per esempio andremo a vedere come aggiungere qualche voce nel customizer di wordpress quindi come creare sostanzialmente per esempio l'opzione per caricare il logo andremo poi a realizzare intanto switcho così qui o qua il risultato della del nostro nella nostra serie wordpress praticamente andremo poi ad aggiungere la possibilità di mettere come immagine del header anche nelle pagine singole un'immagine in evidenza quindi l'immagine cambierà nelle pagine voglio andare ad aggiungere la possibilità di rendere trasparente l'header e andremo a vedere forse anche come fare dei custom templates ora questo non sono sicurissimo dipende un po da visto che nel corso già vediamo come fare dei custom templates vediamo se c'è da aggiungere qualcosa se c'è da aggiungere qualche diciamo layout che non riesco a realizzare con gutenberg e necessario un custom template non escludo che andremo a fare anche un custom template quindi questo è un po quello che volevo dirvi per quanto riguarda il corso next level vp pro ovvero che a breve rilascerò se tutto va bene settimana prossima la prima lezione dove andremo a sviluppare ulteriormente il tema che abbiamo sviluppato nella wordpress smart che ragazzi è un tema pazzesco perché pesa 30k il tema più leggero che ho mai realizzato e sostanzialmente a livello di performance vola si incendia perché non pesa niente pesa meno di un'immagine di medio basso livello pesa meno della vostra foto profilo di facebook sicuro ok vediamo un po di domande innanzitutto se c'è qualcosa alberto cattani c'è andrea sei un grande hai dato un'occhiata alla vp 57 sbaglio c'è ancora vp migrate guarda sulla vp 57 so che fanno che faranno l'ultimo step per quanto riguarda la migrazione a gqr.3 però in teoria se quando hanno aggiunto gqr.3 sei a posto dovresti non avere problemi dico dovresti perché comunque gqr migrate se in certi script potrebbe essere utilizzato quindi lì come al solito quando al giorno c'è sempre da testare vedere un po se se va e comunque non l'ho ancora testato stavo leggendo stamattina che con la 5.7 appunto vanno completare questo switch di gqr c'è da vedere un po come se tutto funziona c'è andrea mai provato generatore di siti statici no dei vari colleghi che sono interessanti sono interessanti però diciamo che se tu hai bisogno di essere flessibile quindi aggiungere plugin aggiungere funzionalità questo tipo di sviluppo ti blinda molto ti dà molti limiti e quindi se tu devi realizzare una funzionalità in più con questi qua poi ci devi mettere veramente tantissimo tempo quindi non non li utilizzo per quello e lo stesso modo lo stessa cosa per quale non utilizzo react per fare temi wordpress ma utilizzo una struttura che va a una struttura con svupo che ti va a simulare l'esperienza utente di una web app fatta in react però ti dà il pro di avere la possibilità di aggiungere funzionalità con i plugin adesso vi faccio vedere anche quello perché sarà l'altro argomento del quale vi voglio parlare in questa live ovvero il corso dev con svupo che ci permette di realizzare siti web stile app web app super performanti che hanno un esperienza utente simile a quella di di anche questi siti realizzati con i generatori statici ok ok cos'è quel pro dev in alto a sinistra adesso vi faccio vedere è semplicemente la base del next del corso dev adesso ve lo faccio vedere andrea ti ho conosciuto da poco perché avevo ripreso scrivere codice complimenti per il video grazie mille ok volevo chiederti delle cose ok chiedi pure a me piace creare i siti partendo da solo codice però ho visto che tanti utilizzano che no ultimamente ho visto che però utilizzano quasi tutti il tema divi ma non tutti tutti quelli scarsi e tutti quelli che fanno siti a 500 euro utilizzano i temi il tema divi se tu vai da un professor se tu fai un sito per un'azienda diciamo abbastanza strutturata e utilizzi un tema divi o il page builder hai una serie di problematiche a parte le performance a parte le sicurezza ma proprio una serie di problematiche in termine che ti da molti ai molti limiti rispetto alle funzionalità che tu puoi aggiungere quindi non è vero che tutti utilizzano divi tutti quelli che fanno siti piccoli e di bassa qualità utilizzano di bassa qualità tutti i siti semplici vetrina poi utilizzare divi ma in realtà tantissimi stanno passando da divi a gutenberg e da elemento a gutenberg perché gutenberg delle che è diciamo il builder di wordpress l'editor a blocchi di wordpress perché gutenberg sostanzialmente ti dà flessibilità e ti permette di avere siti molto molto più performanti di questi qua si parla di siti che pesano quasi dieci volte in meno quindi c'è una differenza dal giorno alla notte e diciamo che l'ideale non è sviluppare codici da zero sempre l'ideale avere la tua base di partenza questo l'ho spiegato già mille volte però lo ripeto l'ideale non è fare tutto da zero rinvertare la ruota ogni volta no tu hai la tua base di partenza che è quella che sviluppiamo nelle prime parti dei corsi e poi tu parti con quello quello come se fosse il tuo page builder ok però non è un page builder è un tema custom fatto da te dove poi tu ci puoi andare a mettere sopra tutte le funzionalità che vuoi se lavori bene ok risposto tutte le domande ora volevo farvi vedere un'altra cosa tutti quelli che hanno tutti quelli che hanno praticamente comprato il corso dev che fanno parte del gruppo pro hanno visto che l'altro giorno ho pubblicato un post dove ho detto che avevo aggiornato con delle lezioni con una lezione sostanzialmente la il corso dev perché perché sono andato a fare delle ottimizzazioni sulle transizioni di pagina del nostro della nostra base di partenza del corso dev questa è la nostra base di partenza del corso dev guardate ragazzi quando cambio praticamente in quanto girano le animazioni ora non so se con il frame rate della diciamo del della diretta si percepisce però vi assicuro che sono molto più scattanti e molto più veloci di prima considerate che ora sto facendo uno streaming in 1080p quindi ho il computer che sta macinando e guardate queste animazioni comunque quanto sono veloce fluide sono ancora più fluide di come le vedete perché voi probabilmente le vedete con una frequenza tipo di non so 20 frame al secondo dello streaming in se facessi un video a 60 frame al secondo vi assicuro che sono veramente molto molto fluide e queste ti permette e ora fatto un aggiornamento che se anche uno diciamo va a taroccarle funziona adesso funziona se un attimo scassato ok funzionano veramente molto bene ora adesso c'era un po di lag perché se vado a fare troppe animazioni una di fila all'altra ripeto facendo lo streaming poi qui ho aperto sei siti con animazioni che adesso vi voglio far vedere va un po più lento però sostanzialmente ho fatto questa ottimizzazione che con un piccolo aggiornamento nello script ti permette veramente di avere delle transizioni ancora più fighe una delle cose uno degli argomenti dei quali vorrei parlare prossimamente sul canale ed è una cosa che adesso vi chiedo quindi fatemi sapere un po anche voi se se vi interessa è quello di andare un pochino più a fondo a parlare di diciamo tecniche e o design che utilizzano animazioni transizioni in ottica di user experience di creare una migliore user experience quindi vi faccio vedere qualche esempio e la morale è vorrei aggiungere all'interno del corso dev un modulo una lezione prolungata una lezione avanzata lunga dove andiamo a inserire non solo transizioni come di questo tipo qua quindi un fade con poi uno un reveal di elementi ma transizioni un pochino più articolate qui per esempio vediamo se riesco a farvelo vedere perché questo al video background mi sa che è un po pesantino adesso vabbè vediamo qui vi faccio vedere alcuni siti dei quali potremmo prendere ispirazione per quanto riguarda le transizioni e vi chiedo fatemelo sapere in chat fatemelo sapere nei commenti adesso ve ne faccio vedere tre o quattro quale vi piace di più in termini di transizione qui abbiamo un sito con una transizione adesso il video va a scatti perché sto stremmando qui abbiamo praticamente le transizioni di questo tipo qua clicco a parte il sound che adesso non è partito praticamente cambiano semplicemente le immagini con un reveal e poi mi cambia il video dietro quindi questo è sostanzialmente un reveal con un video background niente di eccezionale però sono partiamo dalle quelle più semplici purtroppo adesso va un po a scatti perché sto stremmando provo aggiungere a farvi vedere se la pagina contatti l'animazione boom arriva da sinistra e poi si apre così quindi questa è in realtà un ingresso di un pannello da destra verso sinistra ok lo chiudo perché ragazzi un po va un po è un po impallato questo è un altro sito sempre con delle transizioni fighe proviamo a vedere per esempio se vado qua nel menu cosa fa lui col menu questa è una tecnica che potremmo inserire nel corso anche se il discorso del menu full screen non mi fa impazzire il menu appare con un'animazione e il menu riempie tutta la pia la pagina poi quando io clicco praticamente il menu svanisce e con un fade e mi risalta fuori quindi qui abbiamo il menu che copre questa un'altra tecnica di transizioni il menu full screen che copre e poi il menu quando tu clicchi va via ancora e sotto c'è il nuovo contenuto questa tecnica qua è usata anche in questo sito molto figo dove clicco e vedete viene giù sostanzialmente ora che ho chiuso un paio di schede adesso si vede che va va meglio quindi più fluido vado praticamente a sempre coprire tutto lo schermo full screen con il menu e poi quando clicco il menu si richiude e c'è la nuova pagina sotto quindi questo è un tipo di transizioni che sto prendendo in considerazione da fare l'altro sito che volevo farvi vedere a livello di animazione questo qua se vado sui progetti boom vedete ho sostanzialmente una transizione che è tipo un fade dello sfondo e poi ho un fade in con delle animazioni sui testi questa vedete come diversa questa è molto più rallentata rispetto agli altri che abbiamo visto e quindi abbiamo un fade e poi abbiamo una specie di fade in sui testi in maniera un po diversa alcuni arrivano dall'altro alcuni hanno hanno delle animazioni leggermente diverse tipo questa dall'altro e questo qua invece è il sito di un designer che volevo farvi vedere vediamolo dall'inizio così mi fate mi fate fatemi sapere ragazzi se quale vi piace di più di queste transizioni qua nei commenti che così poi quelle diciamo che un po vi piacciono di più le vado ad analizzare questa ha una transizione molto sulla bio se io adesso vado a cliccare bio guardate boom mi arriva da destra quindi ho un'entrata di un pannello da sinistra verso destra con una specie di parallasse sul sul soggetto vedete boom 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 vedete che il testo cambia colore e va a sinistra questa è molto figa un po più difficile da fare questa però sostanzialmente abbiamo dei movimenti delle transizioni orizzontali anche questo diciamo è un tipo di transizione interessante andiamo a vedere sui lavori che vi faccio vedere un'altra transizione figa se io clicco sul lavoro guardate a parte che è fighissimo che c'è i video che partono all'over se clicco sul lavoro mi arriva una transizione da sotto e mi si apre adesso chiudo se non si sente e mi si chiude il mi si chiude praticamente la pagina sotto e arrivo al video questo è l'ultima transizione che volevo farvi vedere vediamo un po se vado su work anche questa arriva da sotto interessante andiamo provare ad aprire un lavoro vediamo un po lavoro però me lo apre un'altra pagina mi apre proprio il sito se io a ok via case vediamo clicco ok anche qui vedete arrivano tutti da sotto le transizioni arrivano tutti gli elementi da sotto quindi questo è un altro tipo di transizione un'altra ancora che c'è però che non ho trovato qui un esempio da farvi vedere è quella dove sostanzialmente questa è difficile da ricreare però anche questa sarebbe figa da fare è quando clicco su un'immagine così sostanzialmente l'immagine si ingrandisce mi occupa tutto diciamo la grandezza disponibile dello schermo e praticamente l'immagine salta fuori no salta fuori come se io clicco si apre l'immagine diventa full screen e poi mi trovo cioè vengo praticamente catapultato immerso nella pagina nella quale ho cliccato questo è un tipo di transizione immersiva che non è questa qua che vorrei farvi vedere e mi piacerebbe anche questa inter interi in istituzione nel corso quindi abbiamo visto fade e reveal che sono un po quella base tipo di transizione base poi abbiamo visto entrata di pannello da sotto come questa qua entrata di pannello a sinistra e entrata di pannello a destra e poi cos'è che abbiamo visto abbiamo vista quella con un fail molto lento con il reveal del testo da sopra e quindi questi sono un po i tipi di transizioni dei quali vorrei prendere spunto detto questo vediamo un po i commenti e fatemi sapere un po ragazzi cosa ne pensate vediamo un po se ci sono domande quante quante domande ragazzi ciao andrea farei una serie sulle web basi del web design colori font eccetera sì penso che la farò penso che la farò non so esattamente quando ma vorrei fare una serie su ux web design perché qua siamo tutti bravi programmatori ma a livello di design e ux ci sono un po di lacune all'interno della community quindi vorrei veramente fare un contenuto a riguardo perché è estremamente importante prima di fare il codice avere un'idea di come funziona logicamente la user experience web design ma in maniera diciamo studiata in maniera strutturata ok hai mai lavorato in un'azienda se si usavi wordpress si ho lavorato in un'azienda più che in azienda ho lavorato in web agency ho lavorato in due web agency e utilizzavamo sia html che css poi ho collaborato in realtà da esterno freelance con tantissime aziende anche aziende molto grosse e solitamente più l'azienda è grossa più non si utilizza wordpress ma si utilizzano sistemi più enterprise come per esempio dotnet che è un'evoluzione di visual studio come si chiamava il linguaggio di microsoft vecchio non mi ricordo neanche più come si chiama ci ho lavorato però no era talmente una uno schifo che l'ho rimosso l'ho rimosso però adesso è praticamente i sistemi proprietari si utilizzano quasi tutti dotnet quelli enterprise se no utilizzano anche python django e strutture di questo tipo tecnologie di questo tipo in grandi aziende ok ciao grande andrea ottimo come sempre ciao christian ciao andrena ciao andrea complimenti come builder cosa usaresti come black trust trust best practice i builder non hanno cioè best practice e non usare builder io non è che ce l'ho con i builder perché non so un giorno mi sono svegliato e ho detto no i builder fanno schifo ce l'ho con i builder intendo elementor div e tutti gli altri perché ho provato utilizzarli e a parte che ti fanno veramente sclerare perché per fare una cosa che tu sei abituato a fare il codice in cinque minuti lì ci metti più tempo però dici vabbè proviamoci perché magari non so devo solo imparare utilizzare lo strumento ho fatto un intero sito con un builder e mi sia piantato schiantato non andava più le immagini sono saltate non c'è stato modo ho dovuto praticamente rifarlo tutto da zero il cliente ha dovuto aspettare in più giorni e l'ho rifatto in due giorni un sito complesso l'ho rifatto in due giorni usando gutenberg e i fogli di stile e praticamente il sito era cento volte più veloce ci ho messo molto meno tempo svilupparlo non ha problemi sicurezza non ha problemi performance quindi la best practice è non usare page builder impara a utilizzare gutenberg impara utilizzare un pochino di css html così puoi fare tutto senza utilizzare i builder se vuoi utilizzare i builder utilizzali e per l'amore del cielo se vuoi farlo fallo al tuo rischio pericolo e poi soprattutto anche a livello di livello di qualità e affidabilità non è non non è compatibile con i miei standard ok quindi io i miei clienti non posso dare un prodotto del genere un prodotto che non è abbastanza affidabile non è abbastanza sicuro ok ok grazie per la disponibilità ok va bene ciao andrea faremo vedere come fare animazioni simile quelle che hai fatto vedere sul gruppo a di paolo brotto tu intendi outlab e questo qua ragazzi da realizzare non è proprio così facile si può fare perché si può fare tutto però questo questo sito qua è veramente una bomba adesso ve lo faccio vedere no non è questo questo qua outlab digital eccolo qui questo qua un sito ragazzi chiudo perché sicuramente con tutte ste animazioni 4d sarà pesante da far vedere in streaming però è veramente una bomba perché sostanzialmente ti fa immergere nel sito ti fa immergere nella comunicazione che questa agenzia utilizza adesso qui purtroppo diciamo va un po a lag però questo è veramente un design con i contro cazzi come si suol dire se guarda clicco su vediamo se parte l'animazione o seppure esplode tutto con lo streaming va un po a scatti purtroppo ragazzi però andatelo a vedere questo per farlo devi utilizzare canvas e devi utilizzare degli strumenti tipo 3djs e roba per fare 3d molto figo però ci vuole veramente un bel po di ci vuole veramente un bel po di skill molte skill soprattutto a livello di programmazione 3d per creare un sito del genere andatelo a vedere outlab.digital outlab.digital merita veramente purtroppo adesso non riesco a farvi vedere quanto è fluido perché siamo siamo in streaming e il mio computer è un po in affanno ok andiamo avanti marchetti è possibile trovare lavoro da junior senza laurea assolutamente sì assolutamente sì il web è meritocratico almeno il settore della creazione di siti web è assolutamente meritocratico non ti serve aver fatto una laurea devi saper fare siti fatti bene senza page builder che caricano in meno di un secondo e che vengono indicizzati da google e che hanno le funzionalità custom create sulle esigenze dei tuoi clienti se sai fare queste cose qua puoi avere anche la terza media nessuno non c'è nessun problema ciao andrea per creare un template di partenza per non usare bootstrap petta ciao andrea per creare un template di partenza perché non usare librerie come bootstrap perché bootstrap è cioè io in realtà li utilizzo e li utilizzavo prima le librerie come bootstrap poi ho creato il mio framework che è su github che pesa 10 volte in meno di bootstrap e poi ho utilizzato semplicemente solo una parte del mio framework perché riesco a far pesare i siti che realizzo ancora meno perché prima non c'era flexbox prima non c'erano tutti queste tecniche css3 che ti permettono di realizzare strutture custom veramente in pochissime linee di codice quindi aveva anche più senso utilizzare tanti framework adesso nel corso pro utilizziamo bootstrap 4 e nel nuovo aggiornamento non lo utilizziamo quindi lo utilizziamo vediamo sia bootstrap che senza bootstrap e ti dico alla fine io nei miei progetti attuali bootstrap lo sto utilizzando poco perché vado a utilizzare i miei framework e pezzi dei miei framework così sono ancora molto molto più performante però bootstrap l'ho utilizzato in maniera ottimizzata come vediamo nel corso una vita ho fatto ogni faccio ancora ogni tanto qualche sito con bootstrap ottimizzato che vuol dire che non che non includi tutti i moduli di bootstrap ma solo quello che ti serve ed è comunque un modo molto molto valido per fare siti ed è un modo molto molto corretto di darsi una mano per creare strutture custom ok spero di averti risposto vediamo un po qua vi siete un po detti un po di cose tra di voi no non era asp.net quello che usavo per fare non era asp c'è un altro nome non mi ricordo ok ciao andrea per quanto riguarda la ux quale tecniche adotti e per quanto riguarda cosa vuol dire la ux è un mondo non posso dirti cioè non è che c'è una tecnica o quali tecniche la ux è tutto quello che riguarda quando tu un cliente incomincia a sentire parlare di un brand di un e poi arriva a per esempio a effettuare una conversione quindi quella è tutta la diciamo il mondo della user experience è un mondo enorme è un mondo gigante ci sono tanti libri che ti consiglio di leggere uno di quelli è questo se vuoi cominciare a parlare e a studiare user experience questo qua è il libro che devi studiare ok comprati questo e leggilo e capirai tutto quello quali sono le mie tecniche ok andiamo avanti quando tu quando cresci ti utilizzi prettamente codice codice o aiuto di gunter utilizzo assolutamente gutenberg utilizzo tantissimo gutenberg insieme al mio tema base insieme ai miei blocchi custom quindi utilizzo tantissimo gutenberg insieme insieme al al mio codice custom Andrea sapresti consigliarmi qualche libro per la ux questo qua ho appena fatto vedere don't make me think di steve krug bomba questa è famosissimo ha venduto penso boh forse c'è anche scritto da qualche parte ho letto che ha venduto tipo 400 mila copie quindi è proprio la bibbia della user experience ok va bene ragazzi quindi con questo ci siamo un po scambiati queste idee qua sicuramente ci sarà qualcuno che vedrà questo video dopo quindi vi consiglio di farmi sapere nei commenti a livello di transizioni anzi se avete a livello di transizioni qualche sito bello qualche sito figo fatemelo sapere nei commenti vediamo se c'è ancora qualche domanda e poi andiamo tutti a mangiare ciao Andrea tempo fa cercavi collaboratori hai già scelto qualcuno sì cioè diciamo ho già selezionato alcuni collaboratori da tutti quelli che che ci sono stati non ne ho selezionati in realtà in maniera definitiva però ci siamo sentiti con un paio di ragazzi per tutti gli altri che hanno che hanno scritto e hanno e hanno fatto l'application vi ringrazio tantissimo c'erano tantissimi portfolli di diciamo di qualità però logicamente io ho bisogno di una persona non posso assumere tutti e anche questa persona qua in realtà non è che l'assumo sto cercando collaboratori ai quali girare dei lavori o ai quali collaborare quindi non è che se io non vi ho contattato adesso non vi contatterò più semplicemente adesso non ho bisogno di collaboratori in questo istante anche i ragazzi con i quali ci siamo sentiti c'era un progetto col quale dovevamo incominciare a collaborare non è partito capita però diciamo l'importante è creare le connessioni e avere la e avere i contatti no così nel momento che poi avrò bisogno di questo quell'altro ci possiamo sentire quindi per tutti quelli che ai quali non ho risposto non sono stati contattati non è detto che non vi diciamo che non vi contatti in futuro per tutti quelli invece che sono all'interno del gruppo pro all'interno del gruppo pro ci saranno sicuramente in futuro dei post che logicamente saranno solo per quelli che hanno preso i corsi e solo quelli che hanno finito i corsi dove parleremo insomma di possibili collaborazioni su progetti quindi per tutti quelli che fanno parte della community pro lì a breve tra un po' vi farò sapere qualcosa al riguardo ok ciao Andrea sto studiando al Politecnico di Milano voglio sapere se customer journey, sitemap, wireframe, personas sono cose che generalmente utilizzo guarda sono cose che insegno anche perché io insegno anche a un master a un master di digital live dove io insegno wordpress però a un master in digital skills dove c'è un altro mio collega molto molto bravo che fa tutta la parte di UX e quindi parlano di customer journey, buyer personas, obiettivi, KPI e quant'altro quindi quello è un tipo di UX diciamo molto moderna che io utilizzo solo in alcuni progetti non li utilizzo in tutti i progetti quella che ti descrive Steve Truth qua in realtà è una UX più basilare cioè è una UX dove più che di buyer personas che anche se ne parla di buyer personas vai più nel pratico quindi vai un po' più a vedere quali sono gli errori che in un sito non devi fare a livello di UX quindi non tutti i progetti ti permettono di creare customer journey, sitemap, wireframe se tu fai un sito piccolo non puoi fare tutto questo lavoro se tu hai poco budget non puoi fare la customer journey di magari 3-4 tipologie di utenti del sito su tutti i progetti logicamente invece ci sono dei progetti per esempio sugli e-commerce dove questo lavoro lo fai lo fai, logicamente non è che è un lavoro del tipo devo andare a dedicare mille milioni di ore per fare la sitemap, la sitemap serve per mettere giù i contenuti stessa cosa per le buyer personas, cioè tu puoi andarmi a descrivere una buyer personas nel dettaglio è importante però devi anche mantenere diciamo una certa via di mezzo tra il tecnicismo e invece il contatto con la realtà quindi per fare le buyer personas più che inventare tu come una buyer personas ti consiglio di andare per esempio sui gruppi facebook dove ci stanno i tuoi utenti e cercare di capire quali sono le loro esigenze andarti a vedere tutti i commenti, andare a vedere tutte le recensioni che hanno fatto sul tuoi e-commerce andare a vedere tutti i punti di contatto, i comunicazioni che hanno avuto con te e da lì tu riesci a capire e a tirare fuori la buyer persona senza inventarla così in base a cosa ti gira a te per la testa, in base alla tua percezione la tua percezione deve essere veicolata dalla praticità delle informazioni che tu hai sul sito quindi sui commenti, sui recensioni, sui post di facebook, sui gruppi facebook quindi devi andare nelle community che fanno logicamente parte del tuo mercato, del tuo sito e da lì vai a tirar fuori le informazioni che poi utilizzi per fare le buyer personas ok spero di averti risposto che ne pensi di awards? sono stato, beh ne penso che sicuramente sono un'ottima realtà sono spagnoli, tutti pensano che sono americani invece sono spagnoli io sono stato alla conferenza che hanno fatto agli awards di San Francisco dell'anno scorso no ormai di due anni fa, nel 2019 dove praticamente è la conferenza più importante al mondo di web design ho conosciuto i responsabili di awards ho conosciuto tante realtà fighissime che vincono i premi penso che sono una bella realtà però tante volte i progetti che vengono caricati lì perdono l'aspetto di comunicazione molte volte ci sono solo agenzie che fanno siti solo per vincere gli awards e non per andare a comunicare e convertire il top del top del top è trovare il giusto balance tra questo mondo quindi il mondo degli awards, delle animazioni, dei siti wow e la comunicazione quando tu li metti insieme hai il discorso che l'occhio vuole da sua parte che ti dà un vantaggio molto competitivo rispetto ai tuoi competitor perché non tutti hanno dei siti esperienziali come quelli di awards abbinato a una comunicazione efficace è facile da fare? No! noi ci abbiamo provato a farlo nel corso, io ho provato a farlo nel corso dev a insegnarvelo nel corso dev a breve avrò un sito molto molto interessante con tutte queste tecniche che pubblicherò e magari lo analizzeremo insieme e lì vi farò vedere questa mia filosofia applicata all'interno di un sito internet Andrea, ultima domanda ragazzi poi andiamo a pappare Andrea, ora che voglio riprendere questo mondo penso di seguire il tuo corso su YouTube, scrivere codice smart ho seguito anche quello sulle animazioni, molto bello buon appetito e grazie per le risposte buon appetito a te ragazzi quindi va bene, vi mando un abbraccio ragazzi ci sentiamo presto, ci vediamo presto con questi nuovi contenuti farò ancora diciamo, adesso vediamo un po' settimana prossima prima di partire a bomba con gli altri contenuti magari farò qualche contenuto più diciamo discorsivo dove andiamo a vedere qualche aspetto sempre diciamo utile però diciamo video meno tutorial e più parliamo di un qualche aspetto facciamo un po' più di lezione come faccio con i ragazzi del master e poi partiremo con i nuovi tutorial vi ringrazio, vi mando un abbraccio ci vediamo presto ciao ciao ragazzi ciao